Maria Valeria Vendegna Fondamentale la specializzazione perché ci permette comunque di conoscere tutte le metodologie didattiche 258 iscritti, 60 collaboratori, 14 docenti, 180 ore di laboratorio, 300 ore di tirocinio sono questi i numeri del terzo ciclo del corso di specializzazione per gli insegnanti di sostegno quest'anno il corso rientra nelle attività del Cediaf il centro di servizio di Ateneo per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle professionalità educativi appena inaugurato considerata la carenza strutturale nella scuola sarda di insegnanti di sostegno il numero di posti disponibili è stato aumentato ai 110 unità rispetto alle edizioni precedenti le domande pervenute sono state tantissime, oltre 2000 per una figura importantissima e molto richiesta oggi abbiamo circa 2000 cattedre scoperte ovviamente questo ci fa capire quali drammi umani si cerino familiari dietro quelle situazioni in cui i bambini non possono avere una professionista competente che li segua e che sia anche risorsa per l'intera scuola perché l'insegnante specializzato è una risorsa di sistema è un attivatore e modulatore di tutte le risorse interne ed esterne alla scuola Papa Francesco